Che cos'è la moda etica? Il concetto di moda etica è un concetto molto antico e molto attuale. Molto attuale perché per moda etica si intende la moda che ha una base di non sfruttamento e delle risorse naturali e delle risorse materiali. Molto antica perché naturalmente è la nostra tradizione, quello del farsi in casa tutte le piccole cose. Molto attuale perché purtroppo con la globalizzazione si è tesi a sfruttare soprattutto stati che avendo meno risorse, avendo meno possibilità, si sono ritrovati a lavorare per noi sottopagati, sfruttati. Siamo assolutamente contenti di poter supportare questa iniziativa perché anche noi vogliamo contribuire a sostenere un messaggio di una nuova forma di industria che deve essere etica e sostenibile e soprattutto che deve guardare al rispetto dei diritti e della dignità di ogni lavoratore. Questa iniziativa ha uno slogan specifico che è «Who's made my clothes?» cioè «Chi ha fatto i miei vestiti?» e cosa vogliamo fare? Vogliamo risvegliare sia la coscienza di noi consumatori cioè dobbiamo perporci appunto l'interrogativo su cosa c'è dietro la costruzione di un capo e vogliamo quindi risvegliare la coscienza di noi consumatori ma soprattutto delle imprese perché ogni impresa si deve impegnare a garantire delle forme di lavoro che rispettino come dicevo i diritti e la dignità di ogni lavoratore.